ciao sono luca manelli e in questo breve video voglio spiegarti come puoi andare a inserire delle persone all'interno dei render che puoi andare a generare in archicad con cine render all'interno della libreria standard di archicad hai la cartella persone la trovi all'interno della cartella visualizzazione persone e veicoli all'interno di questa cartella persone vi sono una serie di oggetti di persone tridimensionali che possono andare bene nel caso in cui vuoi inserire degli elementi tridimensionali all'interno del progetto però considera che il loro livello di dettaglio non è particolarmente alto per cui se devi andare a generare un rendering fotorealistico non sono sicuramente la soluzione ottimale hai però l'oggetto immagini persone questo oggetto una volta selezionato all'interno del pannello impostazioni personali ti dà la possibilità di andare a selezionare una delle immagini disponibili infatti si tratta di un oggetto che fondamentalmente è un pannello su cui viene appiccicata un'immagine che poi in fase di rendering viene scontornata una delle caratteristiche che abbiamo per questo oggetto fa nel fatto che quando vai a selezionare una delle immagini disponibili automaticamente l'oggetto si adatta sia come altezza sia come larghezza alla immagine in modo tale da avere sempre l'immagine con le proporzioni corrette oltre a questo se visualizziamo l'oggetto in pianta ti permette di avere un simbolo in pianta coerente con l'immagine scelta in questo caso io ho selezionato i bambini può vedere che abbiamo dei bambini come simbolo bidimensionale se vado a selezionare l'immagine a fianco vediamo che anche in questo caso il simbolo bidimensionale sia adattato come anche l'altezza seleziono ancora i bambini confermo con ok e vediamo di inserire l'oggetto all'interno della scena logicamente posso fare questo inserimento anche in pianta ma se voglio andarlo a inserire all'interno della finestra 3d non devo far altro che posizionarmi sulla superficie e fare un clic l'oggetto viene inserito può vedere che automaticamente viene messo perpendicolare alla telecamera proviamo a inserirne un altro andando sempre a scegliere all'interno delle persone rimane inserire uno magari sul prato anche in questo caso l'oggetto viene posizionato perpendicolarmente alla telecamera nel caso in cui hai la necessità di andare a muovere la camera io ora vado utilizzare l'orbita e vado a ruotare leggermente la vista magari la sposto anche puoi vedere che il pannello rimane fermo però non c'è nessun problema anche perché questo è un oggetto che in automatico si andrà sempre a posizionare perpendicolare alla camera per poter nuovamente avere gli oggetti perpendicolari non devi far altro che andare a ricostruire l'immagine per poterlo fare se fai clic in un'area libera con il tasto destro puoi andare a selezionare il comando ricostruisci puoi vedere che il pannello dell'oggetto immagini persone si è nuovamente messo perpendicolare alla telecamera